Questa iniziativa mi è stata proposta dal Presidente del Consiglio della nostra scuola dell'infanzia con l'intento di far vivere ai bambini i giochi di una volta, bambini che sono abituati ai videogiochi, alla tecnologia, a giocare col cellulare, farli provare quello che facevano una volta, i passatempi di una volta, i giochi paesani. Per loro è tutta una scoperta, i bambini comunque sono sempre pronti a fare cose nuove, a scoprire, a inventarsi e per loro è un'iniziativa bellissima, si stanno divertendo tantissimo anche perché non l'hanno mai fatto e quindi è divertentissimo. Le cuoche hanno cucinato le uova, poi i bambini hanno iniziato a dipingere, a colorarle, a trasformarle un po', a renderle più personali. Abbiamo messo anche il nome in modo che ognuno avesse più di un uovo, ne hanno fatto due bambini, quindi una cinquantina di uova per sezione e ormai non vedevano l'ora di vedere cosa dovevano fare con queste uova, perché noi abbiamo spiegato il gioco, cos'era e come si svolgeva, però un conto è spiegarlo, un conto è svolgerlo, infatti si stanno divertendo tantissimo, stanno giocando alla grande. L'iniziativa è nata dai rappresentanti dei genitori che hanno pensato di offrire ai bambini un'esperienza di una volta, perché le tradizioni sono belle se si portano avanti e sono giochi che davvero fanno gioire con piccole cose, sanno gioire con piccole cose. Grazie soprattutto agli alpini che sono soci del nostro gruppo, Giuseppe Antoniazzi, Giuseppe De Faveri, Giuseppe Marchesin e Enrico Dorio che si sono prestati, hanno costruito il classico Rodoet e vedo che anche stamattina i ragazzini si stanno divertendo da matti, quindi sono cose bellissime perché i giovani d'oggi, questi giochi erano spariti praticamente nella nostra zona, erano le cose che facevo quando avevo 7-8 anni io praticamente questi qua, dopo pian piano sono andati semando, non ne hanno più fatti, grazie comunque anche alla Proloco, in modo particolare al Sindaco Soldan che ha fatto, sì, di farlo rivivere in piazza negli ultimi 2-3 anni e il Rodoet sta riprendendo piede, spero che sia una bella continuazione per far divertire i bambini. Quanto ci avete messo per realizzare l'arena di gioco? Un paio d'ore e un'ora di risate, un'ora di risate fra noi perché ci conosciamo da quando avevamo i nostri piccoli all'asilo, è un gruppo che portiamo avanti ormai come tradizione da 30 passani.